amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati appuntamento con i principali temi di politica internazionale anche questa settimana anche questo venerdì tantissimi punti e molto importanti da trattare prima di tutto partiremo ovviamente con la Francia nel caos politico perché caduto il governo Barnier dopo tre mesi un record sabato Macron dovrà ricevere Donald Trump per la riapertura di Notre Dame in questo stato di caos cercheremo di capire quali sono le prospettive che avrà il nuovo premier questo è il punto di partenza ma molto altro è previsto in questa scaletta questa settimana do il benvenuto a Davide Rossi ciao Davide buonasera analista politico e scrittore e ben e benvenuto nell'appuntamento del venerdì ad Armando Savini economista scrittore ciao Armando ciao grazie buongiorno a tutti autore del libro di recente uscita lo vediamo qui in sovraimpressione il complotto degli arconti cronache di un iniziato allora Armando che situazione c'è in Francia qui Macron riceverà Trump nella nel caos politico beh e contro ogni previsione e anche il governo Barnier alla fine è caduto avevamo già avuto degli anticipi qualche giorno fa quando Marine Le Pen appunto aveva detto che forse non avrebbe dato il voto di fiducia alla legge di bilancio del governo e così è stato credo che ci sia anche lì in Francia siamo un po' una resa dei conti ecco ricordo che adesso l'Alepin viene perseguita per non si sa per quali reati ma si cerca di tenerla lontana dalle urne è chiaro che c'è una paura molto forte da parte di Macron e del suo establishment e soprattutto delle lobby che stanno dietro a Macron ricordiamo che Macron è un uomo dei Rothschild della banca Rothschild e qui ecco l'Alepin ha guadagnato parecchio favore in Francia come d'altronde allo stesso modo anche Trump ricordo che l'Alepin tempo fa durante il primo mandato Trump Trump la definì diciamo non ancora pronta ecco si ipotizzava un asse ecco diciamo così Trump-Alepin ma poi alla fine Trump disse che Le Pen doveva ancora prendere di più le distanze dal padre e dalla sua politica ora è possibile pensare che in questi anni la Le Pen sia maturata e si sia un po' normalizzata alla politica estera dell'egemone e che quindi in questo contesto possa essere un po' una declinazione anche della politica estera trampiana che sappiamo essere una politica antiglobalista quindi ecco questo risveglio che c'è stato anche in Europa delle forze filo-putiniane diciamo così Putin-friendly chiamiamolo così ecco ricordiamo e con Matteo Salvini anche l'Alepin che adesso ritorna in auge anche la forza con cui i politici come ecco Fizzo per esempio adesso andrà a incontrarsi con Putin e l'ha detto chiaramente e ricordiamo che è uno stato dell'Unione Europea rappresentante appunto che va a incontrarsi con Putin e lo stesso Orbán ha sempre avuto rapporti amichevoli con la Russia e sta avendo un peso non indifferente all'interno dell'Unione ecco lo stesso Salvini in questi ultimi tempi non so se ha ritirato fuori le magliettine con sopra Putin ma insomma ecco c'è questo revival nei confronti di Putin e questo atteggiamento di amicizia un po' nostalgica ecco che prima eravamo abituati a vedere e che adesso no per un po' di tempo durante la presidenza Biden è un po' passata in seconda linea ecco credo che con l'elezione di Trump queste forze filotrampiane ctonie insomma ritorneranno alla ribalta. Sì l'aveva detto per adesso per cedere la parola a Davide Rossi l'aveva detto un anno e mezzo fa circa il segretario del Consiglio di sicurezza russo Medvedev che in Europa prossimamente sarebbero cadute parecchie teste nelle varie cancellerie ci aveva proprio azzeccato eh? Sì ci aveva azzeccato e c'è da dire che di fronte alle politiche che portano avanti chi ha la responsabilità politica nei principali stati europei ci sarebbe da meravigliarsi del contrario perché effettivamente le politiche che vengono portate avanti dai vari governi Scholz, Macron in Francia ma anche Meloni in Italia sono politiche francamente contrarie agli interessi dei cittadini, degli europei che fanno parte di quello stato quindi è da meravigliarsi anzi che il rigetto nei confronti di questi leader politici sia ancora solo a questi livelli insomma che non sia ancora più corposo ancora più netto il rifiuto. Ma lì gioca Davide forse gioca a loro favore la propaganda che c'è da parte di media che altera la percezione della situazione reale presso la pubblica opinione no? Sì funziona sempre meno ma ancora è una parte dell'opinione pubblica sicuramente infatti anche in queste ore la caduta del governo Barnier ci sono alcuni organi di stampa sia italiani che degli altri paesi europei che parlano di irresponsabilità da parte delle forze politiche che l'hanno fatto cadere quindi c'è questa propaganda mi pare che funzioni sempre meno esaminiamo anche il voto di alcuni paesi dell'est Europa la Moldavia la Georgia la Romania ecco c'è un rifiuto delle popolazioni a le politiche suicide contro gli interessi di quel paese che i governanti e l'Unione Europea complessivamente portano avanti ormai da molti anni quindi era diciamo non era da indovina avveggente capire che questi avrebbero avuto poi delle problematiche ma e lo sapevano anche loro e non è che non lo sapessero ma evidentemente dovevano percorrere un sentiero obbligato un binario prestabilito adesso cosa succederà nelle prossime ore nei prossimi mesi difficile dirlo ma stando alla Francia il nuovo primo ministro non avrà vita molto più facile di quella di Barnier anche ammesso che si riesca a fare una una maggioranza un tantino più solida rispetto a quella che sosteneva Barnier con l'ostilità eventuale di Melanson e la Le Penz era molto complicato governare tant'è che anche un tabù che ancora oggi da molti viene vissuto come un tabù cioè le dimissioni di Macron in questa situazione non sono per nulla da escludere non sono per nulla da escludere perché occorrerà capire questa instabilità governativa ad oggi tamponata anche dalla dalla mica Lagarde a capo della BCE quanto si ripercuoterà dal punto di vista economico finanziario sul paese e allora saranno proprio quelle elite potrebbero essere proprio quelle elite che hanno garantito fino a poco fa il consenso Macron a chiedergli di farsi da parte anche perché sapete che c'è quell'inghippo giuridico per cui non si può tornare a nuove elezioni legislative se non è passato almeno un anno però alcuni giuristi leggevo francesi alcuni costituzionalisti francesi sostengono che se cade il presidente della repubblica e si torna a votare quindi per le presidenziali si potrà rivotare anche per le legislative quindi il venir meno di Macron potrebbe anche sbloccare un impasto dalla quale nessuno sa bene come uscire se non buttando un po più là la palla con un nuovo governo che ripeto secondo me avrà vita molto complicata quindi bisognerà vedere come reagirà la popolazione e anche perché il governo deve varare la legge finanziaria che non si preannuncia per niente facile dal punto di vista sociale e come reagiranno soprattutto quegli ambienti delle elite economiche finanziarie transalpine che forse presenteranno il conto a Macron e gli chiederanno di farsi da parte sì armando come sempre davide ha lanciato tutta una serie di spunti nelle sue analisi spunti e suggestioni io direi di rimanere sul tema ancora della 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 francia e nell'ottica anche dell'unione europea perché la situazione mi sembra sì molto molto complessa insomma sì io concordo quello dice appunto davide dal punto di vista costituzionale poi ricordiamo che in francia c'è sempre stato il cosiddetto problema della coabitation come lo chiamano i francesi cioè l'elezione di un presidente della repubblica di un colore poi di un governo di un altro e proprio per ovviare questo problema avevano avvicinato no le elezioni dell'una e dell'altra in maniera che se vince un presidente di un colore poi no il governo e i francesi proprio per evitare la coabitation avrebbero poi orientato il voto verso lo stesso colore quindi questo è uno degli inghippi un po ecco di questa forma di semipresidenzialismo alla francese e no che la stessa meloni ricordo che voleva poi introdurre in italia ma poi ha optato no per un cancellierato addirittura che si rifà lo stato di israele ma al famoso premio eccetera e quindi ecco sono questi diciamo dei meccanismi che vedremo un pochettino come riusciranno poi perché qui al di là no del meccanismo giuridico perché poi giuridicamente ognuno può dire ciò che vuole ma poi è la forza con cui si impone una certa opinione e qui credo che sia tutto politico e geopolitico se e sottolineo se la l'età oramai si è normalizzata alle gemone di turno è chiaro che farà il gioco in europa no di trump ora appena eletto tram prima del suo insediamento è chiaro che c'è un forte rischio di escalation e uno dei punti su cui biden per esempio potrebbe giocare proprio quello di coinvolgere ulteriormente i paesi dell'ue nella nato e impegnare una guerra in ucraina e quindi anche accordi di lungo periodo che poi sono difficili da sciogliere anche con una nuova presidenza ora certo una le pen che crea problemi di questo genere e quindi che mette il veto al bilancio è chiaro che la francia non potrà permettersi una maggiore spesa militare quindi rafforzare gli armamenti in ambito nato e quindi andare anche in ucraina quindi questo è anche un freno a possibili escalation eh in ucraina e poi c'è anche il discorso economico la francia da anni eh insomma ha una crisi molto forte economica ricordo che i francesi sono veramente eh tartassati anche perché c'è poi tutto il discorso dietro di tutti quanti i francofoni che vengono dall'africa e no io insomma mi ricordo anche che c'erano parecchi insomma africani musulmani che vengono con quattro mogli no e ognuna viene da sola come fosse la sorella e i francesi devono pagare le spese sociali di tutti questi immigrati francofoni che entrano lì quindi eh c'è veramente in Francia anche questo atteggiamento oramai c'è un inasprimento anche nei confronti no dell'immigrato che oramai è visto un po' no come il eh il frutto di una politica di sinistra di una politica globalista quindi c'è proprio il rifiuto verso ormai il globalismo e visto che siamo proprio arrivati al tramonto del globalismo e Trump è proprio il corollario è proprio eh no eh l'ultimo tassello del puzzle con fine globalismo perché lo ricordiamo eh il suo secondo pilastro no del secondo mandato appunto l'anti globalismo credo che in questo contesto Marine Le Pen possa avere un ruolo molto importante a livello geopolitico per contrastare eh come dicevo prima una maggior eh un impegno della Francia ecco nella crisi ucraina da parte di Biden ma anche a livello economico eh stiamo assistendo già alla caduta della Germania ricordiamo che piccola parentesi e tutto il discorso dell'euro eh dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria gira intorno alla cieca gira intorno a che cosa due protagonisti Germania e Francia che eh per non diciamo così eh dar avvio a nuove guerre e a nuove attriti hanno fatto degli accordi sono poi messi d'accordo sui famosi bacini carboniferi eccetera e eh l'obiettivo era quello di isolare l'Italia e di far diciamo di lanciare la locomotiva tedesca e anche di rendere eh forte no la Francia in Europa perché è stata sempre questa il suo obiettivo della Francia anche la guerra con l'Inghilterra no per la grandeur francese no oramai insomma un po' desueta quindi ecco che eh davanti a una caduta economica della Francia e della Germania non sappiamo quanto eh l'euro possa avere ancora un senso io non credo che si uscirà dall'euro dalla sera alla mattina perché eh abbiamo degli accordi molto stringenti tutto funziona faccio un esempio pratico ecco per capirci molti diciamo usciamo dall'euro ma se noi uscissimo dall'euro supponiamo dalla sera alla mattina ci ritroveremo senza sistemi di pagamento trasfrontalieri cioè quello che i BRICS oggi stanno cercando di raggiungere noi ce l'abbiamo già con l'euro quindi secondo me bisognerebbe tenere ciò che c'è di buono e fare un cambiamento dall'interno cioè trasformare l'euro che in realtà poi non è altro che un tasso di cambio fisso tra valute irreversibile e in una unità di conto tipo eh bancor keynesiano e lasciare appunto eh delle bande flessibili tra i vari tassi di cambio quindi fare un eh unità di conto e rilanciare i tassi flessibili ogni banca centrale riprende la sovranità monetaria emette la propria moneta e quindi in questo modo possiamo continuare ancora a fare grande l'Europa commercialmente e sempre nel rispetto del bilancio commerciale. Anche qui Davide ci sono stati parecchi spunti no interessanti eh aggiungo una mia riflessione che eh l'asse franco tedesco non non si sa quali dei due poli tra Francia e Germania sia in crisi più dell'altro e con prospettive peggiori diciamo che tutto sommato l'Italia in confronto a questi due eh grandi malati adesso non c'è più il grande malato ma ce ne sono due eh l'Italia tutto sommato se la se la passa meno peggio sembrerebbe. Per me l'Italia era già una grande malata diciamo. Malata beh sì naturalmente. Era già una grande malata che quindi noi non cresciamo più da economicamente da tanto tempo non non esprimiamo nulla eh sul piano politico di innovativo non non c'è uno straccio di idea di dove portare questo paese. Quindi diciamo che l'Italia ehm ha già abbondantemente prima della Francia e della Germania ha raggiunto quello status di grande malata. Loro diciamo allora guarda correggo un po' la la mia riflessione. In questi ultimi mesi di caduta verticale della della Germania in particolare in questi ultimi mesi in confronto se la passa meno peggio ecco mettiamola così forse è più realistico dire così ecco. Sul piano della stabilità politica no sul piano della stabilità del governo sicuramente sì anche perché anche se uno volesse no se in certi ambienti dove si fanno e si disfano i governi si dovesse decidere di fare a meno di meloni francamente con chi la sostituirebbero no? Non c'è neanche una possibile alternativa in questo momento che sia più credibile di lei e quindi l'Italia tra l'altro non dimentichiamo mai che la la crisi pesantissima di industrializzazione che sta vivendo la Germania ha già e avrà ancora di più nei prossimi mesi ripercussioni forti sulla nostra economia non c'è da c'è qualche se io leggo qualche volta qualcuno no che una sorta di revancismo contro lo strapotere che la Germania avrebbe avuto in questi decenni sull'Unione Europea sembra quasi godere no di questa cosa però ecco se poi si torna a essere pragmatici ci si accorge che le ripercussioni per noi per la nostra economia sono già e saranno ancora di più nei prossimi mesi molto pesanti di quello che sta accadendo in Germania. Tra l'altro mi prendo anche lo spunto per sottolineare ancora una volta come la lettura dei giornali sia davvero un qualcosa di ormai quasi grottesco perché ho letto ho letto in questi in questi mesi queste settimane della crisi della Volkswagen quindi si sforzava in tanti articoli di commento di evidenziare come questa crisi fosse dovuta a una mala gestio a un'incapacità di innovazione da parte di Volkswagen a essersi seduta eccetera eccetera come se invece il resto del mondo dell'automative in Europa e il resto dell'economia in generale dell'economia industriale dei nostri paesi andasse bene. Quella motivazione tu la puoi portare se in uno scenario generale positivo tu hai un'azienda molto importante che sta andando male allora si accende i riflettori sulle mancanze della gestione manageriale eccetera eccetera ma se tu hai una deindustrializzazione dell'intera Germania e anche del resto d'Europa come fai tu a cercare di convincermi che il problema è dovuto a una cattiva gestione dei manager può darsi eh per carità non ho esaminato i bilanci però insomma la Volkswagen è sempre stata gestita piuttosto bene tutto si fa per nascondere le vere ragioni che sono dovute a scelte politiche quindi scelte politiche della cosiddetta transizione ecologica dei lockdown prima delle sanzioni alla Russia c'è un combinato disposto di robe che nel giro di tre quattro anni avrebbero ammazzato un toro altro che il problema della cattiva gestione da parte dei manager io sfido chiunque a gestire un industria quindi non stiamo parlando qui della della finanza dell'alta finanza che stiamo parlando di gestire un'industria a cui tu scaraventi addosso nel giro di tre quattro anni degli delle scelte politiche devastanti senza precedenti quindi anche Stellantis in questo momento anche qui Stellantis assolutamente gente che ha beneficiato di contributi pubblici ma il problema che nessuna azienda dovrebbe beneficiare di contributi pubblici ma comunque diciamo cosa contributi pubblici li ha gestiti in un certo modo Tavares ma Tavares è uno che che con tutti i suoi difetti sono anni che disse che la transizione energetica verso cui sono costrette le case automobilistiche è insostenibile forse paga anche questo non è che io voglio fare il difensore di Tavares tutti gli sparano addosso molto interessante come spunto ma è vero e ci sono e ci sono motivazioni per dargli contro per carità però lui io ho letto più volte dichiarazioni sue che che denunciava come questa cosa non fosse sostenibile ecco allora Stellantis è in crisi perché gli Elkan e Tavares sono dei disgraziati la Volkswagen abbiamo scoperto adesso che anche lei è in crisi perché i manager sono incapaci tutto l'apparato industriale sta perdendo colpi insieme più rapidamente è tutta colpa dei manager e caprestiatori insomma sembra come se la politica le decisioni che ha preso la politica in questi anni non avessero ripercussioni quindi qui sia chiaro non voglio certamente fare la difesa tanto meno degli Elkan ma non voglio neanche essere preso in giro però dalla politica e da chi scrive i giornali insomma ecco qui se ci sono problemi di disoccupazione voragini che si stanno aprendo i termini disoccupazione buona parte se non tutta la responsabilità ricade sulla classe dirigente politica dell'unione europea e degli stati membri si facciamo un ultimo giro su questo tema perché ce ne sono altri e dopo andiamo dall'altra parte della dell'Atlantico tra l'altro visto che Davide parlava della dei giornali leggere i giornali in questo periodo qua è piuttosto grottesco eccetera ne approfitto per farmi un po di pubblicità perché il mercoledì alle sette e mezza la mattina abbiamo il mio canale instagram la rassegna stampa alle sette e mezza di mattina quindi effettivamente c'è c'è abbastanza da divertirsi quindi se volete alle sette e mezza il canale instagram il mercoledì intanto la faccio una volta alla settimana e armando davide diceva si sono individuati quelli che proprio a livello strategico sono sempre cose fondamentali no almeno una lettura da quella i capri espiatori cioè tu adesso è tutta colpa di di carlos tavares del portoghese tavares e dei manager ecco prego ma guarda è chiaro che qui si tratta di un settore industriale questa è un'industria nel senso di settore e post vaga non è una aziendina no che risente dell'influsso del mercato eccetera ma post vaga come anche bmw audi eccetera sono il mercato sono l'industria cioè qui c'è quasi una coincidenza tra azienda e industria inteso come settore idem in italia quindi dire che è colpa dei manager che poi ricordo che i manager è vero che non guadagnano un fisso ma hanno anche una parte variabile legata alle stock option alle azioni quindi hanno tutto l'interesse di far crescere l'utile e il problema qui è politico e geopolitico perché se a livello macroeconomico i governi non si occupano più della crescita economica della crescita dell'occupazione perché se cresce l'economia cresce l'occupazione crescono i consumi ok e quindi tutti possono permettersi un numero maggiore di auto questo è chiaro questa semplice l'abc della politica chinesiana è chiaro che politiche deflazionistiche lockdown ricordo che la signora lagarde invocava qualche anno fa i lockdown per tenere l'inflazione bassa cioè leghiamoli tutti in casa così non spendono i soldini e noi non dobbiamo perché questo è il problema è la crisi liman brothers no e con tutti questi pezzi di carta come diciamo in qualche puntata fa non ricordo se tutti quelli che detengono titoli di credito li avessero convertiti simultaneamente in beni e asset reali avremmo giunto secondo alcune analisi raggiunto un'inflazione del 60 per cento a livello mondiale quindi bisognava andare a bruciare la moneta di alcuni per mantenere quella degli altri le banche centrali creano moneta per le banche per gli studi finanziari insomma la grande finanza si auto crea moneta e dall'altra parte la devi bruciare ai popoli e quindi c'era questo discorso di ridistribuzione della ricchezza ora è l'inflazione se la domanda e c'è dell'offerta è chiaro che sta lì ora se queste politiche macroeconomiche quindi intente a raggiungere la piena occupazione e quindi ad arrivare alla piena capacità produttiva vengono meno se abbiamo una politica fiscale aggressiva è chiaro che poi non ci si fa e poi c'è un altro discorso molto importante e che qui è geopolitico cioè la distruzione del nord stream 2 è stato veramente un colpo decisivo per la caduta dell'economia tedesca perché la germania da anni con questo accordo con la russia appunto comprava gas a buon prezzo e riusciva a mantenere anche una certa competitività con la cina adesso è notizia di qualche giorno fa su brics news la gas dotto tra cina e russia per il trasporto del gas naturale è arrivato alla piena connettività e leggevo che il gas dotto dovrebbe fornire circa 38 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno quindi che succede bombardano il nostro in due il gas russo non arriva più in europa come prima ma viene ormai deviato verso la cina quindi la cina oggi è il più grande acquirente di gas e non solo della russia quindi questo è anche un segnale molto forte perché la russia oramai è entrata nel campo gravitazionale della cina e non credo che non uscirà fuori era anche una delle domande credo di ricordare che tucker carson ha fatto per esempio alla prova no ma la russia ritornerà dall'est in occidente cioè uscirà fuori dalla sfera della cina ora secondo me è un pochino difficile tutto con un gasdotto di questo genere e visto che la cina ha grande bisogno di risorse quindi gas petrolio eccetera la russia ha trovato un nuovo partner dove appunto offrire l'offerta di questi prodotti è chiaro che oramai questi elementi queste questo nuovo equilibrio geopolitico dei brics ma anche questa nuova politica energetica ecco nei confronti della della cina e pone la l'europa e la germania nel baratro ora e questa crisi tedesca secondo me è stata innescata volontariamente dall'amministrazione biden perché voleva appena rotto il nostro imme tutti comprano il gas liquido dell'america a guarda volte tanto quindi è chiaro che poi l'industria europea non è più competitiva perché quando tu hai un aumento dei costi di quattro volte e non puoi più competere con la cina né con altri competitor è chiaro però nel frattempo gli stati uniti cominciano a fare profitto perché l'europa si indebita appunto no per quanto riguarda il gas eccetera quindi tutti questi elementi e secondo me anche la nuova politica trampiana no dei dazi non mi sorprenderei se la politica estera sia trampiana che di biden in realtà poi abbia un'unica direzione cioè la distruzione della germania e quindi dell'europa per rilanciare anche l'industria americana cosa ne pensi davide di questa ultima e questo lo scopo potrebbe l'obiettivo tra di biden e di trump potrebbe essere il medesimo poi alla fine guardi ovviamente la condivido totalmente questa analisi che ha fatto adesso armando fatto bene a ricordare l'atto di guerra quando contro il nord stream 2 su cui mi pare ormai ci siano pochi dubbi sulla matrice di quell'attentato di quel sabotaggio è stato pure scusa mi ha purato che olaf scholtz era conoscenza che ci sarebbe stato un attentato e pur di non di non indispettire washington ha fatto finta di non saperlo quindi quindi hai chiaro ormai chiaro ma lo diciamo qui al vaso di pandora da tanto tempo ti ricorderai carlo che questa è una guerra contro l'europa è stata nel conflitto russo-ucraino e soffiare sul fuoco il conflitto russo-ucraino avere costretto l'unione europea poi avere costretto chi dirige un'europea ha fatto questa scelta suicida no è perché serviva ricidere questo legame energetico che naturalmente ha poi riflessi anche geopolitici importanti con la federazione russa e indebolire fortemente l'economia europea riportarla completamente sotto il controllo della di quell'elite che dirigono washington che si fa bene a precisare che non c'è soluzione di continuità nella politica estera tra un presidente e l'altro ma sulle linee fondamentali tant'è che qui è importante ricordare una cosa che io ho scritto nel mio libro l'economia dell'emergenza che nel 2022 ti ricorderai caro l'abbiamo presentato assolutamente sì che nel 2018 se non ricordo male l'aspen institute italia ha organizzato un convegno sull'energia a washington è presieduto dall'allora ministro dell'energia dell'amministrazione trump rick perry e il quale in quel convegno che c'è un ampio resoconto su sulle 24 ore un ampio resoconto di quel convegno che durò due giorni segnalava in quel caso all'italia che aveva organizzato tramite l'aspen institute questo convegno ma in generale ai partner europei che non era più tollerabile la dipendenza delle manifatture europee dal gas russo veniva segnalato come un rischio geopolitico non tollerabile e appunto rick perry diceva noi abbiamo ormai la capacità di esportare il gas l'energia il gas liquefatto lo faremo a prezzi per voi interessanti poi non è stato neanche vero questo perché come dicevo giustamente armando il prezzo del gas è quadruplicato e quindi questa questa decisione interrompere il legame tra le manifatture europee e la federazione russa che il nord stream 2 anche questo convegno veniva segnalato essere non gradito è una cosa che parte da lontano dalla prima amministrazione trump quindi ci sono interessi dell'establishment diciamo che governa washington che è assolutamente trasversale le amministrazioni su alcuni temi su altri no è io su altri sono convinto tipo quello sanitario per esempio esatto ad esempio quello ma anche solamente all'opposto quello sono convinto che notizia politico attenzione perché politico ieri riportava una notizia che sembra che biden potrebbe concedere la grazia ad anthony fauci una grazia preventiva calcolando quello che potrebbe avvenire con l'insediamento di 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 trump e ovviamente robert kennedy alla sanità prego scusami ma era questa notizia se fosse confermata la scritta politico quindi non la la gazzetta del del complottista no quindi se fosse confermata sarebbe veramente clamorosa una una cosa una una grazia preventiva io penso che la che l'amministrazione trump come si sta configurando porterà degli elementi di novità in tanti settori e credo che saranno elementi di novità per noi tutto sommato per noi che vediamo il mondo in un certo modo positivi su certi temi che riguardano la politica estera si vede a si vede anche la questione della della postura di washington nei confronti del conflitto arabo israeliano non cambierà niente ecco quindi quando sono in ballo questioni di politica estera strategiche c'è una continuità tra le amministrazioni su altre questioni e comunque sarà un risultato per noi dei cambiamenti ci saranno quindi lo scenario è è questo cosa potrebbe fare costerebbe interessante dire cosa potrebbe fare l'italia in uno scenario con di questo tipo come si sta configurando in realtà sono temi che piacciono molto ad altri nostri analisti mi viene in mente uno su tutti umberto pascali per esempio cosa può fare l'italia in questo momento che effettivamente una serie di congiunture storiche renderebbero prospetterebbero delle opportunità che è da decenni che non si verifica che non si verificano vero ci sarebbero degli spazi da cogliere veramente interessanti no però bisogna avere intanto un'idea di paese perché poi anche il discorso dell'autonomia è vero che noi abbiamo un'autonomia limitatissima se non oramai quasi inesistente rispetto a certi centri di potere però l'abilità cioè se tu hai un progetto se tu hai un'idea di cosa di cosa fare di buono per il tuo paese certi spazi te li puoi ricavare certi margini di manovra te li puoi ricavare ma se tu non hai in mente niente se c'è il vuoto cosmico nella testa della classe dirigente politica è evidente che col grado di autonomia compressa che abbiamo non porterà nessun elemento di novità ma nel mondo si stanno muovendo tante di quelle cose che ci sono anche delle grandi opportunità il problema è non abbiamo la classe dirigente adeguata e mi pare che non l'avremo neanche in futuro insomma purtroppo su questi passaggi qui su questo tema della parte finale dell'analisi quindi le opportunità che potrebbero esserci che appunto di cui parlava davide armando ti vedevo sorridere abbastanza spesso si purtroppo davide ha ragione cioè non abbiamo una classe dirigente io faccio un esempio molto pratico noi abbiamo all'interno no del nostro corpus normativo e degli strumenti che ci permettono di crescere nonostante l'euro noi potremmo per esempio i famosi crediti cedibili no prima era stato il famoso bonus 110 c'è adesso al di là della modalità però quante aziende per esempio italiane vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione crediti che restano congelati però nel frattempo lo stato chiede le imposte a queste aziende allora per esempio se noi standardizzassimo credito fiscale è chiaro che si crea moneta all'interno del circuito ma anche l'emissione di biglietti di stato come è stato fatto già in passato c'è anche l'uso delle banche pubbliche c'è rafforzare la banca pubblica e quindi anche creare un rapporto diretto tra tesoro con la sua banca pubblica e anche no la società italiana l'internalizzazione del debito pubblico ecco sono tutte cose che potrebbero dalla mattina alla sera creare liquidità noi potremmo arrivare parlava un fabio conditi tempo fa in una puntata potremmo arrivare a creare lo stato mille miliardi così sul lunga diciamo perché ricordiamo che lo stato non è una grande famiglia o una grande azienda che sono fruitori di moneta ma lo stato è emittente di moneta e la sua sovranità è proprio questa però noi a volte vediamo lo stato no cioè l'italia sta l'unione europea come le regioni stanno all'italia in realtà l'italia non è una regione di un'unione di uno stato gli stati uniti d'europa ma a dovrebbe avere ancora questa possibilità di emettere moneta purtroppo abbiamo dei politici non solo asserviti all'egemone ma anche incapaci perché certe cose non le sanno e se anche uno le fa vedere o gli manda una pec non rispondono quindi siamo in questo ma d'altronde vengono scelte appositamente cioè il fatto che adesso non ricordo quale ministro si sia sbrigato a prendersi la laurea no in maniera da non destare chiacchiere che era giuli mi sembra no che mancavano degli esami adesso finiamo filosofia no è uno che poi fa un intervento no come ministro e va a sniffare un libro con una rivista dicendo uno sprologio di stupidità di cose che non hanno senso a mio avviso ecco sono questi personaggi presi no mi viene in mente una frase di senega instrumentum collaticum cioè l'instrumento preso a prestito e poi dopo lo ributti lo rimetti a dove ne preso ecco usa i getto del genere ecco e questa oggi la classe dirigente cioè non abbiamo uomini di stato non abbiamo un putin non abbiamo un lavrov possa piacere o non piacere putin no dipinto come l'autocrate ma in realtà eletto con l'87 per cento dei voti dei russi non mi sembra tanto un'autocrazia però è un uomo di stato è un uomo che fa l'interesse del suo paese diversamente qui noi abbiamo degli eurocrati che fanno gli interessi delle lobby ricordo che all'unione europea al parlamento addirittura le lobby preparano già i famosi draft le bozze di legge e poi questi inutili idioti che cosa fanno non fanno altro che approvare delle bozze che neanche sanno leggere e neanche sanno comprendere quindi ci troviamo in questo marasma e quindi venirne fuori un po difficile secondo me ecco io ricordo che trump disse nel suo primo mandato no uno che avrebbe chiuso la nato ok ma fece anche una no un lancio un input no all'italia disse ma perché l'italia non esce fuori dall'unione europea ora che fossero solo parole o ci fosse dietro anche una volontà di affrancare l'italia da un gioco di sud di tanze estere non lo sappiamo perché questo poi lo sappiamo solo alla luce dei fatti concreti e però ecco questa possibilità potrebbe esserci cioè nel momento in cui un sistema costruito intorno a francia e germania potrebbe collassare perché i principali no protagonisti ormai stanno un po stretti le politiche dell'union della bce sono sempre state fatte ad uso e consumo della germania perché la germania è un paese che si scalda velocemente quindi da in inflazione quindi la politica monetaria sempre restrittiva mentre noi abbiamo bisogno di una politica monetaria espansiva abbiamo diversità economiche lì abbiamo grandi aziende quindi oligopolistiche qui c'è più maggiore concorrenza tra piccole e medie imprese quindi abbiamo un tessuto diverso però questa differenza ha fatto sì che avessimo sempre avuto politiche filo tedesche no a svantaggio nostro ora il fatto che germania non riesca più a stare all'interno del vestito che è stato cucito intorno a lei è chiaro che dei cambiamenti ci possono e ci devono essere è chiaro che dobbiamo avere non solo una classe dirigente capace di muoversi ma anche libera da influenze estere sì davide avrei tanto voglia di cederti la parola per commentare questo intervento di di armando ma siccome ho almeno un altro paio di punti che vorrei che mi ero proprio messo caldi salienti io direi che passiamo al punto proprio successivo e starei ugualmente con te armando perché andiamo su l'intervista di tucker carson che ha fatto al ministro degli esteri lavrov tucker carson tra l'altro in questi giorni ha parlato di guerra calda tra russia e stati uniti e tra l'altro è notizia che ha carson è stato impedito dalla sembra ufficialmente dall'ambasciatore americano a kiev di fare un'intervista a zelensky diciamo che con queste interviste comunque carson cioè mette in una determinata luce tutta una classe chiamiamola di giornalisti fra virgolette occidentali no lui che è occidentale ovviamente ma a questo punto proprio per comparazione sì insomma ognuno può fare le sue considerazioni su sulla classe giornalistica insomma prego sì carson adesso ha fatto questa intervista a lavrov è molto importante perché lui va un po in avanscoperta possiamo dire che sia lo vede un po come l'uomo di trump per il nuovo ordine internazionale e come ho detto già gli stati uniti dovranno volenti o nolenti entrare nel nuovo ordine multipolare oramai è una nuova configurazione quindi saranno un primus interpare se come abbiamo già detto e calzon è molto importante perché già con la sua intervista a putin ha messo l'opinione pubblica americana al corrente no di questo punto di vista russo ora con l'intervista anche alla prova e lui ha chiesto alla prova appunto se poteva uscire la russia dall'influenza cinese e ritornare in occidente ma soprattutto poi ha messo ha voluto mettere in evidenza quello che i giornali non hanno mai fatto ricordo che i giornali americani sono organi di propaganda a servizio della scia insomma dei poteri forti quindi anche questa ricordo è guerra psicologica ricordo che lavrov qualche giorno fa qualche settimana settimana scorsa credo era uscita nella sua intervista e diceva appunto parlava della politica dell'informazione del controllo dell'informazione da parte dell'impero britannico e parlava della famosa bibbia degli schiavi no cosa fece l'impero britannico prese la bibbia tolse alcune parti e poi fece un po un'antologia no di dei migliori brani che potessero diciamo così spingere no le colonie a essere più inclini verso il padrone era una famosa bibbia degli schiari ecco e diceva lavrov guardate che oggi fanno lo stesso con la guerra dell'informazione qui ecco questa questa intervista che appunto calzon ha fatto a lavrov è molto importante perché porta il punto di vista russo ha al grande pubblico americano e lui ha detto siamo in guerra calda perché ha messo a corrente gli americani che i missili a lunga città vengono lanciati da le truppe insomma da mercenari forse americani anche qui poi è da capire perché in realtà sono ex soldati dell'esercito che diventano mercenari quindi per un giochino giuridico no non è l'esercito degli stati uniti che lanciano missili a lunga città in russia e hanno ucciso circa una dozzina di soldati russi quindi lo scontro tra usa e russia è in corso ed è uno scontro caldo oltre alla guerra asimmetrica la guerra ibrida che c'è ricordiamo anche il taglio no del dei cavi che c'è stato nel baltico anche quello fa parte della guerra ibrida è chiaro e quindi c'è guerra calda e anche il fatto che per esempio abbia cercato di intervistare zelensky e non gli sia stato permesso zelensky è il burattino dell'occidente il burattino di biden ricordiamo che zelensky insomma è un clown che faceva insomma sceneggiate insomma un po demenziale messo lì e lui fa l'interesse appunto degli stati uniti e tipo morire per biden ecco qui qualcuno parlava morire per maastricht però che tu c'è di tanto ma lì è morire per biden e per gli stati uniti o meglio per il deep state perché ci sarà una grande escalation fino all'insediamento e no è di trap e come potrà biden per esempio sfruttare questo momento quindi arrivare alla massima escalation e in molti modi abbiamo già visto mandando per esempio delle armi a chi è quindi consegnare gli aiuti militari all'ucraina quindi accelerare le consegne e firmare anche dei contratti a lungo termine perché quando firmi un contratto a lungo termine anche se cambia poi l'amministrazione quel contratto va onorato ma anche il sostegno finanziario quindi attraverso pacchetti più ingenti no la volta che le mandati i soldi stanno lì e soprattutto siccome sappiamo che questa dell'ucraina è un sistema di riciclaggio si stanno sforzando di aumentare gli aiuti che poi servono per acquistare le armi delle lobby che stanno dietro a biden e ricordo che biden ha degli interessi enormi in ucraina lui e il figlio quindi si sta cercando di salvare il salvabile prima dell'avvento di trump fino all'ultimo dollaro possibile e soprattutto poi come dicevo prima biden potrebbe ancora concludere accordi con gli stati europei e quindi coinvolgerli ulteriormente all'interno no della nato e soprattutto poi in aspirire le sanzioni verso la russia ma soprattutto e qui torniamo al discorso dei media e della guerra di informazione l'amministrazione biden potrebbe proprio intensificare la propaganda e quindi dire guardate che la crisi ucraina è nell'interesse degli stati uniti quindi e quindi creare e fare maggiori pressioni sullo stesso trump aggiungo che l'ucraina notizia anche questa recentissima l'ucraina riceverà altri 50 miliardi di dollari dei beni russi congelati in occidente un occidente che così facendo ha compromesso la sua credibilità come ha fatto notare anche putin davide ti ho fatto fare un po di riposo perché ho fatto ho fatto intervenire anche su questo punto prima armando ecco le interviste di carlson come diceva come faceva giustamente notare armando portano il punto di vista della della russia non l'intervista lavrov quella della dell'inizio dell'anno di putin un'intervista storica e cosa che ovviamente la informazione ci metto sempre tutta una serie di virgolette no strana evita di fare perché perché la russia non ha non ha diritto di poter manifestare il suo punto di vista non va preso in considerazione perché perché sono inferiori e sono pure pericolosi no visto che hanno visto che hanno le armi atomiche eccetera quindi mi sembra che queste interviste veramente hanno scavato un solco e fanno vedere proprio per contrasto proprio la irrilevanza e forse sono anche buona dire rilevanza della della dell'informazione mainstream nostrana si diciamo che nella retorica della democrazia dovrebbe essere normale che le opinioni pubbliche di paesi che tra l'altro non sono apertamente ufficialmente in guerra con la federazione russa cioè non abbiamo dichiarato guerra la federazione russa no quindi almeno parlo formalmente e comunque non c'è una situazione di guerra aperta tra questi paesi dovrebbe essere diciamo un esercizio democratico banale quello di che le popolazioni possano sentire anche il punto di vista di qualcun altro oltre che di quello della ufficialità di quel paese invece noi ci siamo abituati come purtroppo ci siamo abituati da un po di anni a tante cose che erano impensabili fino a 7 8 10 anni fa oggi sono diventate normali cioè il fatto che anche l'informazione debba essere militarizzata che la stampa ormai non fa neanche quasi più finta di essere libera ma appunto inquadrata dentro un binario che il potere le le indica ecco queste cose qui erano un tempo accadevano anche prima però diciamo che erano meno meno smaccate comunque c'era anche sempre un po un contraltare io parlo dell'italia comunque fino agli anni 80 un po degli anni 90 poi mano mano soprattutto dopo il 2001 in avanti i paesi occidentali hanno iniziato lentamente a prendere una china che deviava abbondantemente da quelli che dovrebbero essere i canoni elementari di una democrazia del dibattere liberamente del free speech no come dicono gli americani e gli inglesi queste cose non sono più una virtù non sono più considerate un elemento distintivo delle nostre civiltà rispetto agli autoritarismi sono anzi indicate oggi come pericolose come da combattere no le fake news il putinismo i novax tutto un qualunque movimento di pensiero di forme rispetto al sistema dominante è indicato come pericoloso e quindi conseguentemente da controllare e da censurare questo è diventato purtroppo la normalità non era così e io lo sottolineo sempre perché non cent'anni fa ma dieci anni fa 15 anni fa era erano impensabili le cose che stiamo vedendo oggi sul piano dell'informazione oppure nella teorizzazione di introduzione di veri propri reati nuovi di opinione ad esempio quello di negazionismo climatico che per fortuna ancora non è legge ma ci sono settori politici importanti che spingono in quella direzione e ci sono accademici che danno copertura a quel tipo di posizioni quindi noi siamo dentro un percorso di questo tipo dove la libertà sotto tutte le sue sfaccettature a cominciare da quella della libertà di espressione sono sotto attacco e e quindi diciamo la il poter far sentire il punto di vista di un ministro degli esteri di un paese importante una federazione russa diventa una sorta di tradimento diventa una collaborazionismo no diventa un fare intelligenza con il nemico ecco quindi siamo dentro a un rovesciamento di cui paradigmi che avevano caratterizzato la storia occidentale da qualche secolo e non è cosa da poco è non è che sia una cosina che 10 va beh succede no no qui sono cambiati paradigmi fondamentali e in parte questo è passato nell'opinione pubblica non è la nella percezione dell'opinione pubblica comunque qualcosa di normale che normale non è lo dice uno che non ha una particolare simpatia per il regime russo che l'ho sempre detto questo insomma non è che io sono disposto barattare comunque i valori che avevano contrassegnato l'occidente fino appunto 10 15 anni fa con i valori dei brics io non sono fra questi non sono per buttare via il bambino con l'acqua sporca per andare ad abbracciare qualcosa di più illiberale addirittura però non mi nascondo neanche che noi stiamo facendo grandi passi verso forme di autoritarismo sempre più schietto ecco detto questo qual è l'altra l'altro elemento di riflessione aggiuntivo rispetto a quello di armando su questa questione che quando tu ascolti tutto lo dice uno che non ha particolare simpatia per il regime russo ma lo vede diciamo in maniera neutrale per cui riesco a cogliere negli aspetti positivi quelli negativi non sono un fan tu ti accorgi quando senti parlare un lavrov o senti parlare un putin tu ti rendi conto di come ci sia un abisso rispetto a quando parlano i nostri leader occidentali a cominciare dallo stesso biden ma si mettono anche tram tutto sommato no cioè quando parla trump non è di quel livello lì francamente non è non senti diciamo uomini della cultura politica e anche umanistica di quando senti parlare questi altri quindi forse anche questo motivo per cui non si vuole che la che l'opinione pubblica occidentale ascolti questi leader motivo anche che tutti accorgi della differenza di statura pur magari non condividendo tante cose come ho già ribadito ma però la qualità la percepisci io mi sono visto il film di oliver stone putini interview di un po di anni fa quando ancora putin parlava dei paesi occidentali chiamandoli partner tu puoi non condividere quello che dice putin o per lo meno poi non condividere tutto ma il livello tu lo senti che è diverso lo percepisci che è diverso rispetto ai nostri occidentali e appunto non parlo della meloncina o di o anche di macron ma parlo di biden parlo di trump sono anche la preparazione storica scusami davide io adesso mi hai fatto venire in mente che ad esempio l'intervista quella storica perché ha superato i due miliardi di visualizzazioni di di tucker carson a putin all'indomani della pubblicazione il corriere l'ha definito un monologo di 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 putin no e mentre putin all'inizio dell'intervista in alcuni passaggi dice qui dovrò necessariamente essere abbastanza lungo perché devo spiegare tutta una serie di antefatti no ecco la spiegazione l'approfondimento la cronistoria per un giornaletto un giornale sì ma voglio dire l'ho detto giornaletto ma perché se ragiona così un giornaletto quando si approfondisce quello è un monologo e lo credo che per loro è funzionale interventi di di dieci secondi no di un interlocutore perché cosa vuoi spiegare in dieci secondi puoi fare una freddura all'inglese voglio dire no di fronte a tornanti della storia come quelli in cui ci troviamo un leader ha il dovere di avere la necessaria profondità storica e culturale per leggerli questi avvenimenti ecco e questo da noi purtroppo non c'è è obiettivo che sia così e facciamo proprio una considerazione finale visto che abbiamo incentrato quest'ultima parte sull'importanza della dell'informazione e in particolare sulla censura proprio una una frase proprio per per chiudere il nostro appuntamento armando con l'avvento di trump e dell'amministrazione trump ci potranno essere buone notizie perché sappiamo che l'america nel bene nel male anticipa sempre voglio dire poi no l'europa quantomeno l'europa ecco secondo te a quello di di censura potrebbero esserci delle degli svolti delle novità positive proprio in estrema sintesi per chiudere io penso di sì per lo meno un momento ricordiamo che adesso musk sta si è dato insomma l'acquisto di un altro canale quindi si è già preso ex ex twitter che aveva tolto la voce a trump quindi aveva tolto la voce all'opposizione democratica anche se devo dire che qualche twitter ricordo di di kennedy venne censurato dallo stesso ex di musk quindi anche qui ci sono sempre così un'altra volta sono personaggi che si muovono non è sempre prevedibile capire come si muovono e perché si muovono in quel modo quindi secondo me appena trump riuscirà a implementare la sua politica interna ed estera ci sarà un momento possiamo dire in cui potremmo tirare un sospiro di sollievo ma non so quanto durerà e se tutto il secondo term americano di trump sarà poi orientato a un riequilibrio eh anche dei poteri geopolitici cioè se beneficeremo tutti oppure no io credo che tra portare avanti gli interessi americani e delle lobby che lo hanno sostenuto come ho già detto e e quindi e in un certo modo le cose andranno bene per un certo periodo di tempo e finché saranno orientate alla politica trampiana e poi vedremo poi vedremo quindi cautela nella e non creiamoci aspettative ehm così troppo troppo ottimistiche in pratica dice armando e davide sull'avvento di trump per quanto riguarda in eh riguarda la l'informazione la censura eccetera tuo commento conclusivo io penso che anch'io penso che ci sarà un cambiamento da questo punto di vista ma perché perché Trump e Musk hanno vinto interpretando alcuni degli elementi costitutivi dello spirito libertario americano cioè il loro successo è perché hanno attinto anche a alcuni diciamo tratti identitari del popolo americano tra cui c'è questo la la non censura libertà di espressione quindi dovranno mantenere almeno almeno in parte questa promessa e poi chiudo dicendo questo che quando esaminiamo in particolare il potere gli uomini di potere ma anche noi che non siamo uomini e donne di potere eh non è che tutto bianco e tutto nero cioè un sì una singola persona fa delle cose che condividiamo e altre che non ne condividiamo non è che io perché lo sento questo anche nei commenti no del nostro chiamiamolo mondo a sì uno è a favore e dice contento che vinto tram ma trump no filo israeli cioè non è che tu puoi prendere un personaggio di quella potenza no e pensare che sia completamente riconducibile al tuo pensiero ci sono delle cose che tu condividerai delle cose che non condividerai così come succede nella nostra vita quotidiana in famiglia nel posto di lavoro non è che siccome uno esprime una posizione che tu non sei d'accordo da quel punto qualsiasi altra cosa farà quello anche di buono non sarà più buono ecco io invito ecco a quando analizziamo questo per questi personaggi e quando analizziamo il potere a saperone leggere la complessità sapere che non è tutto bianco e nero sono mille sfaccettature cerchiamo di cogliere quelle buone presto ci roviniamo anche questo sembra quasi che se avessi vinto la harris per noi sarebbe stata la stessa cosa non sarebbe stata la stessa cosa è bene che abbia vinto tram certo grazie il nostro appuntamento del venerdì si conclude qui io ringrazio moltissimo davide rossi grazie davide a presto grazie 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 armando sovini grazie a voi grazie a presto grazie 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 a tutti voi amici ascoltatori